Le tigri sono cacciatrici solitarie. Ma nella giungla dell'India centrale, quattro sorelle stanno riscrivendo le regole del comportamento delle tigri. L'istinto le dividerebbe. Il sangue le tiene unite. Sono feroci. Sono implacabili. Insieme sono imbattibili. Legami di sangue Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In California sta arrivando l'inverno. Mentre lungo la costa pacifica, dalla California fino alla bassa California in Messico, si riuniscono per la stagione degli amori gli elefanti marini del nord. Gli elefanti marini del nord. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Costa a sudo occidentale del Madagascar. È il territorio di una tribù molto speciale, Iveso. Nomadi, la cui vita è essenzialmente legata al mare, Iveso usano molti diversi metodi di pesca. Tra gli altri, reti da pesca, ami, arpioni e nasse per crostacei. Baobab tra terra e mare. Grazie.